Ok, ben ritrovati a questa challenge, sarà l'ultima challenge in teoria Delle 13... delle 14 assistenti Fatte sempre da Armstrong, sempre nel Discord vado a dire Fare questo sarebbe tante roba, nessuno le aveva fatte tutte le 14 Sembrerebbe, anche se alcuni hanno fatto... Hanno già fatto parecchie run in Pride Cosa che io non conto di fare nel breve periodo Tra queste challenge si esclude l'AL che sarebbe una run sbagliata Che non dovrebbe esistere Vabbò, andiamo a vedere questa Allora, l'idea di questa challenge si chiama Inner Rage Condizionale ad avere ancora una volta Earth Knuckle Credo che sia la terza o la quarta challenge Un dash scelta tra questo e quello di Vento Per forza questa è signato qua C'erano varie arcana anche diverse Per... da scegliere Io ho preferito la Filled Berserk Perché, insomma, in Rage ci assomiglia troppo Tra l'altro c'erano due possibili roba Io ho scelto... C'è Rill Adventure che si poteva scegliere Dove sei? Qua Ma io ho scelto quella più safe Credo Quindi è il momento di iniziare Oh, Evening Love per aiutarci Vabbè, andiamo Dai, chiudo questo Poi si inizia a speedrunnare, eh Mi apro un Life Spit e vediamo come fare Blu, Ros e Verde Quindi Freya, Zeal e Atlas Ah, non c'è male Anche se la Trasper ultima considero che ho solo i poteri di roccia Per ora se crema è di Vento Vabbè, vediamo Vediamo cosa succede Vabbè, non c'è Ci sono tantissimi nemici, dato Questo è così Oh, oh, oh That's not good Ah, già Non posso romperlo coi buoni Insomma, ho già preso troppi damage Bene Bene, 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 bene Ma sì, ma vi pare che ho paura Ma sì, ma vi pare che ho paura Ok Devo un attimo prenderci la mano con questo Set Oh Oh, oh, oh Non sono neanche le Raricammesse Vabbè, ci sono Oh, no Si è guardato finora Questo è tutto corretto Oh, ci sono un sacco di Raricammesse Però I pugni grossi sono I pugni grossi Immaginate se avessi fatto la Rampride Mmm Immaginate se avessi fatto la Rampride No Large, paro e tortoise Ehm Mettiamo di grassi, eh Vabbè Che sciva, sì E gli altri no Stranissimo Ah, io penso che rire Oh ma sto negozio dov'è? Non ho guardato qui a sinistra e non ho guardato qui a destra Non ho guardato qui a destra E non ho guardato qui in basso Giusto per capirci Gaia Shovel Non è ammesso Bladehead Buckler Non è ammesso Phoenix Talon Non è ammesso Trekking Suite Non è ammesso Vabbè Questo È ammesso Feels good Cosa deve essere? Corri Corri Che brutta stanza Flashy Crimson Anchor Nessuno di questi Ho provato con un Appuro a caso Ottimo 41% È abbastanza Ottimo 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 Grazie a tutti. Vediamo un po'. Auto L, Dice and Mystic. Auto L, Dice and Mystic. No. Nessuno di questi. Sì, vabbè, ma... Qua? Eh, voglio trovare il coso viola. Ah, ecco. Eh, non mi vuoi. Come here, cat. Come here, cat. Oh, that's a mess. È molto bene un cazpito, ma va bene. Oh, i danni ci sono. Devo solo ristabilizzare e non prendere troppe botte in giro per la mappa. 1, 2, 3... 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20 20 22 Ah Ok Ok Il resto Explode Ok On 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 Aspetta il condono almeno Aspetta il condono almeno Allora Aspetta il condono almeno Buono Allora Allora Questo è uno dei momenti in cui lo giocherei la pozione Allora Iris Iris Mannaggia a te Allora Amulet Kali Grimoire Capitain Davvero Ma c'ho tipo 12 oggetti e posso prendere Nessuno di questi Allora 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 Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Due Due Tre Allora si guarda Ok Ok That was fun That was fun Dov'è Dov'è ancora le pozzine A 175 E' va bene l'ho gridato ho fatto il danno posso potenziarla mi frega mi curi in qualche modo ti pare mmm mi curi in qualche modo pozione la pozione la posso comprare roxel memory sleeper oh memory posso prenderlo memory save mail è ammesso cosa va ah ok oh non è male oh 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 to oh 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 ora qua, attraverso il giro, ora lo reclugiamo ma porco ma che danni a caso ho preso qui a parte non deve succedere, robo, zero maschile e qui ovviamente non mi da niente cadi? ok 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 for the best not the worst 3-8-9 4-5 pozione ok devo solo stare un po' attento ed è fatto ok 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 è la migliore delle opzioni è la migliore delle opzioni berserker ce l'ho ce l'ho è la migliore di opzioni t no ebon mi pari no che fa oh good a me serve il viola forse si ma forse no vabbè si vecchia bloc d'ana bloc d'ana bloc d'ana E qua Sembra che qui c'è un po' di strada Golden stunts e flash No Allora, basta negozio Non c'è? Non c'è? Tutto in imbroglio Non so Oh, però almeno L'ho già presa la pozione L'ho già presa, no? Il mio cuore Ok vabbè 375 è un ok numero 3,4,5 1,2,3,4 1,2,3,4 375 vanno bene pure per solo perché la prima fase dovrei smontarla cioè entro e smonto e non me ne frega niente posso scrivere la primissima cosa? che ovviamente è questa 4,5,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 grazie grazie 2,3,4,5 perdoe che da per l'ultima l'ultima da quanto sto registrando? non penso da tantissimo credo di essere andato sotto i 25 di run pura non penso da tantissimo 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 ok e questo era l'ultimo challenge di armstrong con questo siamo a 14 ragazzi è stato bello adios grazie 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 grazie